Daniele Farsetti, Arezzo Possibile, una macchinetta del caffè. Che manifesto è, scusa, Daniele, questo? È l'invito alle persone a contattarci, a portare presso le loro abitazioni, presso il loro domicilio, la possibilità di ritornare a parlare di politica, quindi non di avere slogan urlati, ma a ragionare sulle questioni, entrare nel merito e capire perché è importante informarsi bene rispetto a questo referendum costituzionale. Perché portare questo caffè? Noi pensiamo che il referendum costituzionale, il prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre, sia un passaggio decisivo per la nostra democrazia. Quindi è fondamentale che le persone riescano ad arrivare a questo voto informate, capendo tutti i rischi che corrono, confermando le modifiche costituzionali. Quindi noi abbiamo deciso di chi ci vorrà invitare, ovviamente, perché lo slogan della nostra iniziativa è il caffè costituzionale. Cioè voi ci mettete il caffè, noi portiamo le ragioni per cui sarebbe auspicabile votare no a questo referendum. Quindi facciamo un porta a porta della democrazia. Le persone come vi possono offrire questo caffè e ricevere in cambio informazioni? Allora loro possono contattarci tramite i nostri canali istituzionali che sono il sito internet arezzopossibile.it, la nostra email arezzopossibile.gmail.com, lì troveranno poi i numeri di telefono, i whatsapp per poterci contattare. Noi siamo disponibili appunto a incontrare chiunque per dettagliare meglio i rischi che corriamo con questa riforma. Detta in tre parole, perché si deve votare no? Sicuramente in primo luogo perché si riducono gli spazi di democrazia. In un momento costorico come questo qui, piuttosto che toglie la democrazia, sarebbe necessario introdurne in maniera ancora più massiccia. E in secondo luogo perché poi anche sotto il profilo pratico questa riforma va a peggiorare tutta una serie di rapporti, per esempio Stato-Regioni, per esempio un Senato di consiglieri regionali, sindaci dopo lavoristi che non farebbero bene né il loro lavoro di consiglieri e sindaci né il loro lavoro di senatori.